Al via in 22 classi il progetto di potenziamento linguistico nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nato dalla collaborazione tra Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio e Autotorino. Sono stati selezionati i quattro docenti madrelingua che da qui alla fine dell'anno scolastico terranno 756 ore di lezioni. Le 22 classi coinvolte appartengono a 14 diverse scuole della provincia. Il progetto, partito a febbraio, durerà 5 anni e prevede l'aggiunta di due ore supplementari dedicate all'insegnamento e rafforzamento delle lingue straniere, in particolare inglese e tedesco. Finalmente questo progetto vede la luce di Chiara Fabio Molinari, dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Sono grato al gruppo Autotorino, all'associazione VUT e alla fondazione Pro Valtellina per il sostegno che hanno dato a questo progetto innovativo che è stato accolto dalle scuole con grande entusiasmo. Particolarmente determinante è stato l'appoggio di Autotorino con il quale mesi fa ho potuto delineare i tratti di questa iniziativa. L'impegno che l'ufficio ha preso, insieme agli altri attori del progetto, è di garantire una prosecuzione almeno quinquennale di questa esperienza, poiché le lingue straniere rappresentano sin dai primi anni di vita la chiave per comprendere il mondo e per relazionarsi con l'esterno.